Mi scusi vorrei un'informazione, sono un tabacchino di Voltri, mi hanno detto che ci sono dei dimostranti che vengono in qua verso il ponente, mi sta a dire niente, no perché chiudono tutti, non so come comportarmi. Dove sta lei, a Voltri? Io sono a Voltri. Un po' stanno giudendo, vedo un po' lei cosa vuole fare. Ma ci sono? Ci sono un po' in cielo dappertutto, se per prevenire è meglio. Ho capito. Puoi farci come vuole perché lei è lì prima di fare quello di voi. Ho capito. Potresti che non arrivo, speriamo che non verranno mai, però prevenzione è meglio. Ho capito.